No, c'è il dispiacere perché abbiamo fatto un po' fatica al primo tempo, ma io lo sapevo, noi fisicamente bisogna guardare le strutture delle squadre, noi siamo un diesel, loro sono molto più rapidi e sapevamo perfettamente, sapevo perfettamente e mi aspettavo questo tipo di partita. E' normale che abbiamo avuto dopo 20 secondi la palla a gol e lì può cambiare la partita, ma se il primo tempo nonostante abbiamo un pochettino sofferto le loro ripartenze, la loro velocità, però abbiamo avuto 4 palle a gol, 4 palle a gol e in una partita così di andata e ritorno alla fine le puoi pagare. Abbiamo preso il gol allo scadere un po' ingenuamente, poi abbiamo avuto il secondo tempo, onestamente penso che c'è stata una squadra in campo, abbiamo avuto 2-3 ripartenze, abbiamo fatto gol, sono contento soprattutto del secondo tempo. E' normale che sono partite che si giocano sull'equilibrio, non è che di punti in bianco noi possiamo cancellare i nostri difetti, però oggi abbiamo creato, abbiamo creato una squadra che viene fuori casa, che si gioca la salvezza e che viene in un campo difficile, perché poi tutti i campi sono difficili di questa categoria e crea 6-7 occasioni da gol, beh a questo punto se deve essere pareggio ce lo teniamo stretto. Rifarebbe la scelta di Baccolo come è maturata questa scelta un po' a sorpresa? Ma no, non è una scelta sorpresa, noi volevamo giocare un pochettino più coperti per cercare di giocare un pochettino sui spazi che ci potevano lasciare, sapendo che potevamo soffrire ogni termine all'inizio della partita. Come ho detto, noi abbiamo come struttura fisica e se io vado ad analizzare i miei giocatori sono tutti non brillanti nei primi metri, di conseguenza sapevo che con questo caldo e via dicendo potevamo soffrire. Il problema è stato che abbiamo preso gol quando era finito il primo tempo, perché altrimenti mi aspettavo un secondo tempo diverso. No, lo rifarei perché poi dopo chi è entrato ha cambiato la partita, però ha cambiato la partita perché ne avevamo un pochettino di più di loro. Allora, cosa è mancato a questo Teramo per vincere? Cosa le è piaciuto di più della sua squadra? Non mi sono piaciute due cose. Una, soprattutto, un po' di paura. All'inizio abbiamo giocato con un po' di paura, però loro erano più rapidi, arrivavano un attimino prima sulla palla. Questa palla giocata in mezzo, ecco la scelta di giocare con i tre centrocampisti, perché queste palle filtranti in mezzo ai due centrocampisti quando ci potevano mettere in difficoltà. Non è che non mi è piaciuto niente, dobbiamo essere più cattivi perché è normale che oggi abbiamo portato via un pareggio, però se hai sei occasioni da gol devi fare gol, devi fare. Non le è piaciuto nemmeno tenere aperto ancora il discorso? Ma noi sapevamo che non è che, se siamo arrivati a quella classifica, sapevamo perfettamente che dovevamo soffrire, perché qui non è che noi i problemi, come ho detto prima, ce li scrogliamo di dosso da un momento all'altro. Però siamo vivi, abbiamo adesso la partita in casa e abbiamo grandi possibilità di poter centrare l'obiettivo minimo, perché, torno a ripetere, a questo momento è questo l'obiettivo. Perciò non è che ci dobbiamo scandalizzare se dovessimo salvarci con dei pareggi, assolutamente. Mister, 90 minuti in casa avendo due risultati su tre, ma psicologicamente a volte può essere un trabocchetto, bisognerà lavorare molto psicologicamente. No, io penso che sia più pericoloso per loro, noi sappiamo quello che dobbiamo fare, anzi. Poi avete visto oggi, e qui c'è da ringraziare perché, torno a ripetere, abbiamo giocato in casa, abbiamo giocato, di conseguenza c'è da ringraziare prima di tutti i tifosi che hanno fatto questo lunghissimo viaggio. E solo per quello domenica dovremmo renderli molto, molto felici.